Ha conferma che appunto la lettura non conosce confini, non conosce confini e come ha detto il Presidente Mattarella la lettura è una chiave per diventare cittadini del mondo, lo credo fortemente. La lettura ci aiuta a interpretare il mondo in cui viviamo, ci aiuta a vedere le diverse prospettive e a essere cittadini del mondo perché è quello che ci aspetta, perché è quello che ci aspetta essere sempre di più cittadini del mondo.